Adesso per i cosiddetti veleni di Bussi la discarica alle porte di Pescara che avrebbe inquinato le falde acquifere della zona coinvolgendo 700.000 persone, 19 gli imputati, quasi tutti ex amministratori e vertici della Montedison accusati tra l'altro di inquinamento delle acque. Il nostro Matteo Parlato ha intervistato il sindaco di Bussi, vediamo. Il suo comune negli ultimi cent'anni ha pagato un pesante tributo all'azienda, all'azienda chimica nello specifico. Adesso voi volete continuare a mantenere questo sito industrializzato, anche se molti non sono d'accordo con voi. Perché? Io credo che l'Italia ha ancora bisogno di industria, l'Italia ha ancora bisogno di lavoro. Noi vogliamo rindustrializzare questo sito e lo vogliamo fare con aziende che siano compatibili. È l'obiettivo su cui ci stiamo muovendo. Abbiamo uno strumento che è quello dei 50 milioni di euro messi a disposizione dei fondi per il terremoto, che hanno un vingolo funzionale, cioè quello di bonificare totalmente laddove è possibile, mettere in sicurezza laddove è possibile. E una volta che il sito è stato messo in sicurezza e bonificato, rindustrializzarlo. Stiamo facendo una cernita delle aziende che hanno manifestato interesse e assicuro che stiamo scegliendo quella meno impattante con l'ambiente. Perché non è un mondo perfetto ma è la riduzione del danno. Cioè con gli strumenti che avete volete cercare di trovare una mediazione fra ambiente e industrializzazione del lavoro? È una riduzione del danno, è vero, è un compromesso, è vero, ma è l'unico strumento che in questo momento abbiamo. Chi propone cose diverse deve rendersi conto che per raggiungere l'obiettivo che si pongono bisognerebbe investire su questo territorio miliardi e miliardi di euro che in questo momento purtroppo non abbiamo e che il Ministero dell'Ambiente non mette a disposizione.